Allora ci sono oltre 2 milioni di euro da spendere e la cosa più importante che abbiamo notato noi è che una buona parte, circa il 30% è per gli uffici, 550 mila euro per gli uffici. Noi pensiamo invece che i soldi devono essere oggi, soprattutto che non ce ne sono tanti e che i servizi costano, devono essere orientati sui servizi, servizi ai cittadini, ai disabili, agli anziani, a chi ne ha bisogno, però non si possono spendere 550 mila euro per gli uffici. Quindi uffici, ci riferiamo al personale? Al personale, uffici di piano, funzionari, noi dobbiamo concentrare i soldi sui servizi che servono veramente ai cittadini. Questa è la programmazione per quanto tempo? Questa è la programmazione per i prossimi tre anni, diciamo che quella che è stata approvata è per il primo anno e già è passata. Ci auguriamo che per il prossimo anno, il 2014, si faccia una concertazione seria. Il Movimento 5 Stelle è disponibilissimo a collaborare con il Comune Capofila, con i funzionari che si interessano del piano, però per concentrare soprattutto le risorse sui servizi che in questo territorio mancano. Voi in questo documento protocollato, specificate proprio nel dettaglio quali servizi secondo voi andrebbero incentivati? Certo, come noi ogni anno partecipiamo alla concertazione come associazione di categoria per i disabili. Questo con il nuovo piano S8 di Vallo della Lucania abbiamo fatto le nostre considerazioni. Le considerazioni sono sempre le stesse che per i servizi vengono dati pochissimi soldi, però la maggior parte sono per il funzionamento del piano, come ha detto Lorenzo. Noi chiediamo all'amministrazione e al responsabile dell'ufficio di piano che nella prossima programmazione del piano S8 di riguardare le spese e di metterle a disposizione più del piano. Per quest'anno non si può fare nulla, voi state parlando per il futuro? Certo, per quest'anno sono questi, è già stato fatto il piano, però da gennaio, per l'anno 2014-2015 si dovrebbe fare la nuova programmazione. Noi abbiamo fatto le nostre considerazioni sempre in un modo molto normale, abbiamo protocollato le nostre considerazioni, quindi spero che vengano accolte nella maggior parte dei punti, come quella dei centri di urni, perché i ragazzi disabili dopo il diciottesimo anno di età, quando hanno finito la scuola non hanno più nulla da fare e quindi con dei centri di aggregazione, di socializzazione, dove possono iniziare a imparare un lavoro, anche manuale, è importante e poi diminuire di molto, diciamo arrivare al 10% come fanno tutti gli altri piani per l'ufficio di piano, per le spese dell'ufficio di piano.